signori ecco a voi il mio mezzo a due volte sono su una ciclabile ed ecco a voi il mio monopattinone io il monopattino l'ho fatto vedere su instagram un paio di mesi fa circa quindi questo youtube non l'ho mai mostrato l'ho comprato per due motivi motivo numero uno perché ragazzi è bellissimo indubbiamente non c'è nulla da dire il prodotto della new prima di acquistarlo ho guardato un sacco di recensioni sia di galeazzi di altre gente su youtube quindi mi hanno convinto e il secondo motivo perché volevo un mezzo per poter andare al lavoro è sostanzialmente un impiego allo stesso tempo che ci impiego macchia quindi mezz'oretta sono al lavoro non inquino e mi diverto anche un po' se devo dire la verità l'ho preso su amazon in sconto l'ho pagato 3,50 quindi devo dire un buon prezzo autonomia 40 km in realtà ci ne fa 32 parla 33 ma poi dove lavoro e casa è perfetto non ci sono problemi che partecipare due giorni con una carica completa adesso basta parlare lo proviamo così vediamo come va e vi faccio vedere che bestia è super maneggevole ah comunque non vi ho detto velocità massima 25 km orari ovviamente sono fuori legge ma non ditelo a nessuno innanzitutto devo dire che è difficilissimo vloggare e andare in monopattino con una mano quindi spero di non schiantarmi al suolo ma detto questo a me questo mezzo fa impazzire guardate qua siamo già a 25 km orari però adesso vado con domani perché secondo me mi schianto secondo me mi schianto guardate come vanno un po' difficile non so se mi sentite col vento però ci sta ci sta ci sta bene raga adesso basta solo trovargli un nome io ne ho già in mente qualcuno ma magari suggeritemi voi uno qua sotto nei commenti che lo scegliamo insieme per questo video è tutto ovviamente vi terrò aggiornati e niente ci vediamo al prossimo video con altre robe con tantissime robe ciao 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 ciao